Buon pomeriggio, ci siamo, ci siamo, oggi alle 15.30 su Tele Ligurese, parteciperò alla conferenza stampa della prima serata, quindi collegatevi, frequenza 29.72.50, saremo io e la nonna, poi ci saranno i giornalisti ufficiali e quindi noi faremo le opinioniste così. Quindi sarà una bellissima giornata e volevo salutare un'amica che praticamente si posiziona sul divano questa sera, una mia cara amica di martedì sera, si posiziona sul suo divano e si schioda il sabato dopo la proclamazione degli eletti. Quindi sarà un bel tour, vero? Non pronuncio il nome però. Ecco, quindi si diverte un sacco, durante la giornata rivede la puntata due o tre volte, poi discute, autocritica, eccetera, sui cantanti. Che piace, è la che piace star lì. Ecco, quindi praticamente seguitemi, seguitemi e seguitemi, perché vedremo delle belle. So già una cosa, che Anna Ox non è neanche venuta sul Green Park Carpet, perché io sono stata l'ultima, ha fatto anche bene, voglio dire se non c'è tempo. Arrivederci e dopo.